Masullo, la grande squadra forse all'Aquila avrebbe vinto? No, penso che abbiamo fatto una buona partita complessivamente. Forse potevamo raccogliere qualcosa in più e in alcune circostanze non siamo stati fortunati. Però penso che la nostra prestazione l'abbiamo fatta anche all'Aquila. Però ci prendiamo questo punto che comunque va bene lo stesso. È un punto prezioso nonostante abbiate perso due punti dall'Ascoli. Però è un punto che vi permette di continuare questa corsa? Sì, è un punto che permette di continuare questa striscia positiva che dura tante giornate. Siamo ancora lì, abbiamo recuperato un altro punto sulla Reggiana. È sempre importante fare il risultato positivo. Poi comunque mancano ancora tante giornate e ci sarà tempo per fare di meglio. Facciamo un passo indietro, torniamo alla partita di andata contro la Spalla. La trasferta a Ferrara sembrava proibitiva. Adesso dopo un girone intero di partite disputate è cambiato molto rispetto a quelle che sono le aspettative su questa partita. Sì, noi venivamo da un momento un po' difficile, comunque dalla sconfitta nel derby con l'Aquila. Quindi per noi era una partita comunque importante che dovevamo fare risultato a tutti i costi. Adesso è cambiato tanto perché, soprattutto per merito nostro, che siamo in una posizione di classifica migliore, domenica dovremmo sicuramente cercare di fare nostra la partita. Adesso è la Spalla che deve venire al Bonolis con il timore di affrontare una grande squadra? Sicuramente ci affronteranno in maniera diversa dall'andata, dove loro erano i favoriti. Verranno qui a fare una grande partita, sappiamo che sarà difficile fare il risultato pieno, però ci metteremo tutti i nostri impegni come sempre. Non hanno segnato la Padula e Donnarumma e la partita all'Aquila è finita 0-0. Speriamo allora che tornino a segnare domenica prossima. Sappiamo che per noi la Padula e Donnarumma sono importanti, comunque tutto il nostro gioco è finalizzato su di loro. Sono stati di domenica, sono stati anche un po' sfortunati sotto porta, però va bene così, ci hanno aiutato in tante altre partite, va bene un turno di stop. Puntati alla Serie B o ai play-off adesso? Noi puntiamo ad ottenere il massimo ogni partita, per il momento siamo lì, ci godiamo questo posto in classifica e cerchiamo di mettere in difficoltà tutti.